La cosa che mi ha impressionato di più è stata la velocità dell'intervento e la completa assenza di sangue dopo intervento chirurgico. Sia per la rapidità, sia per il scarsissimo sanguinamento e per gli ottimi risultati. L'accesso è molto stretto, l'incisione è molto corta e si sistema questo impianto in modo semplicissimo. Mini-invasiva, pochi rischi di infezione, pochi rischi di rigetto dell'impianto. E' un intervento che mi ha letteralmente entusiasmato. Mi pare un intervento abbastanza soddisfacente, molto convincente. La tecnica è molto valida e sicura. L'indomani non c'è ematoma, non c'è echimosi, non c'è nessun colore strano. Tutto sembra normale, sembra fatto come per magia. Un intervento che nel giro di 25-30 minuti può risolvere i problemi di erezione e disfunzione erettile in maniera definitiva. Si deve dire che dietro questa apparenza c'è un intervento molto tecnico. Ho valutato la tecnica in maniera molto positiva, con un grande controllo sulla tempistica operatoria, una qualità molto alta, soprattutto per gli standard europei e per il paziente. Quindi ho deciso di continuare a seguirlo e di emularlo nella mia attività professionale. Una cosa impressionante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS